Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, spero che mi si veda, ho cercato di dare il più luce possibile. Allora, è da tanto tempo che volevo fare questo video, dire il vero, molti dicono sempre la frase non l'avrei mai voluto fare questo video o altre cose del genere, invece io volevo farlo. Non ho mai fatto video dove parlavo, diciamo, tra virgolette male delle persone o queste cose qua, anzi ho tantissimi video che dimostrano che io ci tengo particolarmente alle persone, non ho mai fatto video nemmeno conto i miei haters, sinceramente, ma in maniera ironica, cosa che mi hanno detto molti che potrebbero benissimo fare. Comunque, non ci schiamo in parole, allora, questa cosa è venuta fuori perché dopo un bel po' di tempo, non so precisamente quanto tempo, ma penso che un anno o due sicuro, diciamo forse anche due anni dai, non so, comunque qualche anno, sono uscite fuori queste due persone finalmente, io ci godo un casino perché finalmente non so, non passo per pazza o perché mi capita spesso, allora, parliamo in modo coinciso, così vi spiego bene la storia. C'è un video che vi lascio qua sotto, di un ragazzo che seguo, che diciamo fa un po' di trash, un po' di, diciamo, gossip. Che altro giorno, boh, sono capitata così per caso, io tra l'altro non lo sapevo nemmeno che Follettina fosse scomparsa dai social, perché non la seguo, sono onnesta, non voglio parlare né bene né male, ma non mi ha mai interessato, sinceramente, nel senso mi faceva ridere come persona, nel senso che era un po' trash appunto, però non mi sono mai espressa, nel senso che non mi sono mai usato di offendere nessuno, perché magari c'è gente che può piacere, gente che non può piacere. Sinceramente io non la seguivo, infatti, tant'è che non ho mai saputo, al di fuori di oggi, che aveva chiuso tutti i social, YouTube compreso. L'unica cosa che sapevo, già da anni, che lei veniva seguita da una ragazza che una volta era una mia amica, o almeno, amica è una grande parola, una persona che io conoscevo. Io, nei miei anni da YouTuber, anche prima di avere un canale, ho avuto molti gruppi, Whatsapp, e non solo Whatsapp, con delle persone che, appunto, eravamo tutti YouTuber, chi aveva Twitch, chi aveva altre cose. In questi gruppi, che tuttora alcuni adesso li gestisco, addirittura io, dove ci confrontiamo sul montaggio, sui video, sul fatto di aiutarci tra di noi, insomma, un gruppo, comunque, di persone che dopo tanti anni diventano comunque amiche. Questo gruppo, circa uno o due anni fa, se non mi ricordo quanto tempo sia passato, ho, appunto, aggiunto Giolla Masca Reborn, che adesso è stata sputtanata, fatemi passare il termine, da, appunto, internet e dalla diva del tubo, e da altre persone, è stata, diciamo, sputtanata è brutta una parola, voglio essere gentile, è stata rivelata per la persona che, che, che poi non è nemmeno colpa sua, sinceramente colpa del suo ragazzo di merda. E ora vi racconto la storia, visto che non ho mai raccontato gente che non mi è mai creduto, tranne un ragazzo che continua a dirmi, che adesso ho avuto dei rapporti di disguidi con lui, che era un ragazzo che si chiama Salvatore, ma tanto non lo conoscete, che comunque mi ha sempre chiesto di fare attenzione a loro due, infatti, si è visto. Comunque aggiungo lei e lui a quel mio gruppo, perché reclutavo persone da Facebook, un po' da tutti i social, non mi ricordo bene dove li ho pescati. Comunque, io aggiungo il mio gruppo e tutto il resto. Prima di tutto, il suo ragazzo, che all'epoca non era il suo ragazzo, ma eravamo tutti insieme nel gruppo, ci trovavamo tutti in questa città, perché anch'io sono di Torino, come anche Joe, e come lo era, se non sbaglio, anche Lord Genium. Comunque, nel mio profilo va tutto bene, il mio gruppo, aiuto all'inizio soprattutto Giorgia, con gli iscritti, le parlo in privato, aveva difficoltà con il tipo con cui stava, perché diceva che era violento, tutte altre cose che non sto raccontarvi, perché la sua vita privata ci mancherebbe. A un certo punto scopro, dopo che Lord Genium ci aveva parlato pure con me, che io ero fidanzata, e Salvatore, questa persona che stava nel gruppo all'epoca, aveva anche confermato, ma io ho smentito la cosa, perché ero fidanzata tuttora, cioè tuttora con il mio attuale ragazzo, ma faccio finire di niente. Comunque, si mettono insieme Lord Genium e Legio. Da quel momento cambia tutto. Giorgia è sempre stata una persona, che appunto, Giorgia Mascherebon, che comunque ci parlava di tutto, anche se sapevo che seguiva Follettina, seguiva solo Follettina, non mi ha mai detto che la frequentasse, queste cose qua, la seguiva. Io ci parlavo, l'aiutavo, gli davo i consigli, io un giorno, quando poi lei mi ha detto che stava con Lord Genium, gli ho detto, guarda, sono contenta, perché comunque se hai trovato un ragazzo, comunque ti trovi bene, ero contenta, ma ho detto nulla di male in confronto, cioè. nei confronti di loro due. Anche se a me Lord Genium non mi è piaciuto come personaggio, tanto è che nel mio gruppo, me lo dicevano in privato, non piaceva a nessuno. Però ognuno ha la sua pignone. Andiamo avanti col tempo, e Lord Genium inizia a diventare cattivo, proprio. Nel senso che inizia a fare delle regole, inizia a rubare iscritti, a fare video strani per rubare le iscrizioni, inizia praticamente a poi abolere immorbosamente Giorgia tutto per sé, tant'è che io poi gli ho detto, parlo con Giorgia, ho detto, comunque tu devi essere forte come donna, devi essere comunque una donna forte e devi comunque, non dipende da un uomo. Non gli ho detto, ovviamente che Lord Genium faceva schifo, e questi messaggi ce li ho ancora. Non che faceva schifo né niente di tutto ciò, io solo ho detto semplicemente che secondo me una donna deve essere forte da sola, senza appoggiarsi a un uomo, perché prima o poi un uomo nella propria vita potrebbe anche scomparire. È come se tu ti aggrappassi a un palo, e se prima o poi il palo si sposta tu cadi con esso. Ma non perché era un cattivo ragazzo o qualsiasi altra cosa, semplicemente era un consiglio, perché comunque come ragazza parlavamo di tutto, eccetera. Lui è venuto a insultarmi, a criticarmi, dicendo che io ho detto cose brutte su di lui, che io volevo farla lasciare con lui, insomma, è un puttanaio allucinante. Nel mio gruppo molti si sono lamentati, dicendo che si sono approfittati di me soprattutto quello schifo con la parrucca di Lord Genium, che adesso non si sa come mai abbia 11.000 cristiani che lo seguono, avranno tutti grandi problemi. Mi piace per loro. Io semplicemente li ho bloccati, non li più considerati nel tempo, perché io non faccio di easing, niente di questo tipo. Infatti, per me, se volete seguirli, fate quello che volete. Ci sta solo il fatto che dopo tanti anni che la gente non mi credeva, che io comunque non rivelo mai il perché di alcune persone del blocco, di cui saputo dei diseguiti personali, molti miei scritti mi hanno sempre chiesto come mai io non cagassi più loro. Ma non lo sapete, mi hanno praticamente insultata, sfruttata, per avere l'inizio iscritti, avere un po' di visibilità e tutto. Poi hanno sfruttato Follettina Creation. Persona che, ripeto, non ho mai seguito, ma seguirò. E tanto che so tutto. Hanno sfruttato lei, ha iniziato a fare video con i gatti, a regalargli i gatti e altre cose, e hanno iniziato a sfruttarla. Comunque, detto poi questo, perché dopo l'insulto che mi ha fatto l'orgenio molto carino, devo dire come insulto, a mia volta ovviamente ho risposto, l'insulto non mi ricordo nemmeno più cosa gli ho detto. Sinceramente gli ho solo detto la verità alla fine, che comunque io non lo vado a metterla contro la sua ragazza, anzi ero contenta, se era felice, perché sapevo che aveva avuto un ex ragazzo che non era il massimo da libidine. Comunque, appena questi due si mettono insieme, mi sembrava la love story dopo nemmeno una settimana, vanno addirittura da Follettina a regalargli appunto sto gatto. e da lì hanno iniziato a sfruttare Follettina per avere la fama, perché alla fine è quello che hanno fatto. Poi, finito questa storia, io poi non ci ho più dato caso, perché le ho bloccate tutte e due, ripeto, non ho mai messo dislike alle loro storie, lì al canale, niente, ad ora. E trovate questa cosa, perché appunto oggi stavo facendo dei giri su YouTube, vado a vedere questo video appunto, e vedo che viene nominato, viene nominato Bicato Giorgia, della maschera Ebor. Non mi imbari i video, non solo suoi, dal diva del tubo, da un altro tizio che viene chiamato, adesso mi ricordo tipo il notaio, non mi ricordo, scusami se sbaglio i nomi. E viene scritto, tutti che scrivono nei commenti, Giorgia sei una persona fantastica, meravigliosa, vera, eccetera, tutti che la difendono nei video, percato che in altri video non è così, nel canale di Giorgia non è così. E tanto è che hanno tome tanti di quei dislike, che la cosa è strana. Avete forse cancellato altri commenti, dove venivate magari non amati? Io ci farei qualche pensierino. E sono andata comunque a vedere. O se l'ho risposto solo a Giorgia, anche se l'ho bloccata, nel video appunto di questo ragazzo, che mi metterò poco qua sotto, perché non mi ricordo il nome. Scusami se non mi ricordo il tuo nome, o per il mio con i nomi. Comunque mi è andato fastidio, il fatto che sono stata sfruttata da questi due, e si sono rivelati le merde che sono. Perché sono andati dopo che Follettina ha chiuso tutto, e Giorgia, ovviamente, ci ha fatto pure il video commemorativo, dove solo alla fine metteva il video di Follettina, così almeno hanno detto nel video. Sinceramente, se una persona ti chiede dammi solo il finale del video, non gli dai tutto il video, e basta. Cioè, tanto comunque te lo taglia. Volevi diventare famosa, volevate diventare famosa, siete riusciti, come delle merde. E io sono felice, perché vi siete rivelati le persone false, ipocrite, sfruttatrici che siete, e potete fare, per quanto volete, per le vittime. Perché alla fine, secondo me è tutto una maschera. E il tuo nome, Giorgia, ci sta proprio bene. Perché ti chiami Giorgia La Maschera? Ma Giorgia La Maschera? Perché tanto, è sempre fatto finta, di fare la persona, la vittima, ogni volta avevi qualche paturnia, e tuttora, vai a dire in giro le tue paturnie, che devi i soldi, che c'è lo stalker, il tipo che ti picchia, e l'altro, io mi chiedo, ma se le cose sono veramente vere, o te le inventi? Come l'altro, la Giorgia, con quella cazzo di parrucca. Quell'altro che, prima ci prova con tutte, poi si mette con lei, e poi inizia a dire, cazzo per palazzo. Quando sinceramente, con lui non ci ho mai avuto, nessun problema, anzi, non liate a dirmi. Poi attenzione, che secondo me è strano. Adesso ho avuto tutti gli iscritti, che voleva, la vostra fama ce l'avete avuta? Siete contenti? Avete avuto una fama, spettacolare ragazzi, io sono contenta di avere, pochi iscritti, ma buoni, gente che sia ogni tanto, mi insulti, me li becco anche io, ma almeno, non sono diventata famosa, sfruttando Follettina, adesso che ha finito la sua carriera, dovete sfruttare qualcun altro, qualche altro povero, o coglione, di coglione, o qualche altro povero coglione, perché Follettina sia coglione, non voglio offenderla, ma dico in generale, voglio vedere proprio, con la diventura vi è andata male, purtroppo lei non ci stava, voglio vedere proprio che troverete, qualcosa lo troverete tanto sicuramente, perché con tutte le cose strane, come siete stati voi, io voglio proprio confermare il fatto, che tanto voi siete falsi, ipocriti, che secondo me, perfino le storie che raccontava Giorgia, erano pure false, secondo questo punto, tutti nei commenti dicono, Giorgia è la mia migliore amica da 30 anni, mentre il resto, si tesoro sarà pure la tua amica del cuore, quello che vuoi tu, ma intanto le persone che mi rifregano, cazzo, le trattano come il tappetino, usa e getta, perché è così che ha fatto con me, nel mio gruppo, con tutte le altre persone che l'hanno seguita, fatto così, punto e basta, e i vostri dislike nei video, che sono andata a vedere, con il mio canale oggi, ovviamente non ho messo nessun dislike, niente, perché non perdo tempo con voi, sono andata a vedere, e i dislike parlano da sole, mi dispiace tanto, per quanto potete menarvela, la storia del siamo stati sputtanati, non è vero, bu 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 bu, non mi dispiace, per quanto le uniche persone che vi supporteranno, saranno quelle che odiano la diva del tubo, che sicuramente io non odio, anzi, la trovo una persona molto eccendrica, è una youtuber come un'altra, anzi, anzi, sono contenta che abbia fatto questo sfogo, così finalmente, è uscito fuori, che non sono io la pazza, ma anzi, molte persone lo nascondono, anzi, cancellate anche i commenti, e secondo me che li state, vi state non sul culo, e quindi fate finta di essere per benissime altre cose, in virgolette, volevo fare appunto questo video, per dire che, la falettina a me non mi cambia nulla, ripeto la storia, non la seguivo prima, non la seguo mai adesso, potete vedere tutti i miei video, io ho sempre fatto video, dove difendevo addirittura la Sabri Gamer, che adesso non la seguo manco più, perché ci ho litigato, e non ho mai fatto teasing contro di lei, tant'è che ho spiegato anche il motivo, per cui non la seguivo più, e tant'è che faccio anche questo video, proprio per dimostrarvi, non il fatto che, io voglio insultare queste persone, ma per farvi capire la verità, che avete la conferma di un'altra persona, che magari io non sono nessuno, non sono la Diva del Tubo, non sono la Sabri Gamer, non sono magari un personaggio famoso, anzi, sono una persona che, per loro all'inizio, contava qualcosa, per essere sfruttata, e adesso invece puntano sulle persone, che hanno più follower, per appunto, avere più visual, ed è veramente una tristezza, veramente, veramente una tristezza, ci dobbiamo fare appunto questo video, non tanto per il visual, se magari verrà anche cancellato, verrà dislocato, verrà, magari anche non cagato, e qualsiasi altra cosa, ma ci dobbiamo fare questo video, perché sono veramente tanto contenti, quando le persone, vengono rivelate, per le schifezze che sono, e veramente da persone, che comunque io ho aiutato, e ce ne sono tanti, nei gruppi che aiuto, siete aiutati veramente, a farvi un nome, attraverso un modo veramente schifoso, e veramente, le persone si rivelano proprio quello che è vero, che è diste il karma, niente, chiudo così il video, io vi auguro, una buona giornata, e, bellissimi i video che fai, Giorgia, sono veramente bellissimi, semi preimpostata, sono di una spontaneità unica, veramente, l'importanza è che ognuno faccia i video come gli pare, quel di Lorgele non l'avevo proprio visti, perché sinceramente, non mi è mai fregato un cazzo di te, come sempre, quindi, non mi è cambiato mai niente, è sempre solo sfrotto tutti, è orrenda quella parrucca che porti, e quindi, sinceramente, non ti seguirò, non ti seguirò mai, ti ho bloccato, è solo un video che farò, e spero, che diventate famosi, appunto, siete certi conosciuti, per le schifezze che siete, lo ripeto, è bello essere, avere un nome, che adesso, anche i grandi youtuber sanno, come stalker, pazzi, megalomani, non senti tutti i colori, in vari video diversi, e poi vediamo 4-5 persone, magari anche profili fake, che dicono, no, ma sono degli amori, loro li conosco da tanto tempo, sono persone fantastiche, sì, perché hanno regalato il gatto a follettina, scherziamo, ma non è vero, ma per niente, non li ho conosciuti di persona, ma per quei pochi mesi, che li ho conosciuti, posso sicurare che sono delle persone false, e ipochi, te lo ripeto ancora, ed è uno dei miei soli video, spero, mi auguro che uscirà, dove per la prima volta, non parlo bene, delle persone, potessi parlare molto, molto peggio, ma mi voglio contenere, tanto questo video, non so nemmeno a che fine farà, però non ci tenevo, ho letto però anche un titolo appropriato, sono felice, che il karma esista, veramente ragazzi, sono molto felice, sono felice per poi, vi siete trovati, proprio come coppia, uno falso, l'altra che fa finta di essere, sempre la povera vittima sacrificale, povera follettina, adesso che vuole starsene in pace, voi come farete a fare visual, dovete cercare un modo, purtroppo, così, mi siete fatti il nome, dai, mi siete contenti, un nome un po' così, però, è il vostro scopo, sin dall'inizio, diventare famosi, come quell'altro, che si chiude, il re di youtube, mi vede strappato un sorriso, veramente, dopo tanto tempo, sono veramente felice, cioè non felice, non è un sorriso malefico, quelle cose là, ma come nella tua mente, quando, giustizia, sapete, tipo, giustizia, tipo, quando avete ragione, e c'è qualcuno, che la pensa come voi, ecco, tutta, in Italia, tutte le persone, che mi seguono su youtube, e vi mettono in dislike, la pensano come me, e non solo le persone, che magari sono, dalla parte, dativa del tubo, o altre persone, ma perché se veramente, capiscono, le persone, che siete dietro, la vostra maschera finta, o dietro le parrucca, dipende dalle posizioni, e niente, io vi auguro, una buona vita, un buon proseguimento, spero che troviate, un'altra capra, da usare, non per dire, che fuori ti è una capra, ripeto, non voglio, fare teasing, a una persona, che adesso, non ne ha nemmeno più, sul web, grazie alla diva del tubo, mi è piaciuto tantissimo, lo sfogo che hai fatto, e ti ammirerò, per questo, per sempre, è davvero bello, e ringrazio appunto, il ragazzo, che non mi ricordo il nome, e penso che me lo dirà, per sempre, ma lo metterò sotto, poi tutti, metterò sotto video, da cui ho preso, questa ispirazione, e niente, sono molto contenta, ripeto, la verità fine, è sempre a galla, alla fine, l'ho detto, poi ho passato quasi, forse due anni, non so da quanto tempo, tant'è che ho detto, pure nel gruppo, che ho adesso, su Facebook, no su Instagram, di non aggiungere, la maschera reborn, e ho spiegato anche il perché, a sballo, che, sballo, è un ragazzo, che seguo, su YouTube, vedi la verità, viene sempre a galla, le cose, io non me le invento mai, c'è un motivo, esiste veramente, il motivo, potrete anche dirmi, che sono falsa, tutto quello che ho detto, massimo, posso assicurare, che non sono per niente falsa, dire così, le dico per la verità, che sono, magari posso essere incompresa, se ci senti voci sottofondo, solo la mia famiglia, non la posso uccidere, io non sono mai falsa, le cose dico molto direttamente, piuttosto offende, tutto, sono molto molto diretta, non vi parlo alle spalle, né niente, se vuoi dire una cosa, ve la dico in faccia, così come sono, infatti le cose, sono sempre dette in faccia, non ho mai, offeso, se non ovviamente, se non era il caso, ovviamente, né niente, io comunque so, chiudo il video, che è già durato abbastanza, devo pure caricarlo, e cercare un titolo appropriato, devo cercare un titolo, molto molto appropriato, magari metterò anche le vostre foto, sì, metterò le foto, con le tina, all'orgenio, ho la mascara, è buona anche di questo ragazzo, che appunto, mi ha fatto scoprire questo video, grazie, veramente, c'è scritto anche sotto, nel video, ovviamente, nessuno calgerà a me, che c'ho pochi iscritti, però, io sono contenta, del canale che ho, riesco a avere il canale, così com'è, che avere i vostri canali, dove fate un video, penosi, dove sembrate degli zombie, o, a meno quelli l'orgenio, non mi ha detto, se ho visto quelli giorni, dove sembra tipo, che sta leggendo un programma, o in balsamata, per riscoprire il mio canale, con quattro cani, quattro gatti, che mi seguono, ma che realmente, mi vogliono bene, e che realmente, mi sostengono, e non avere diecimila cani, che mi seguono, perché, mi seguono solo perché, parlo male di una persona, o solo perché, faccio fida di essere, una bella persona, che non sono, io sono me stessa, e sono felice, così come sono, di avere il mio canale, che è spontaneo, non sfrutto nessuno, mi capita ogni tanto, di fare video su, altri youtuber famosi, ma perché, li rispetto, perché comunque, ci tengo a loro, e non perché li sfrutto, per le visual, come fate invece voi, perché la verità, che vi piaccia, oppure no, è quella la verità, io vi saluto, e ci vediamo nel prossimo video, prima che la, mia famiglia, ammazzi il cane, non so cosa stanno facendo, e quindi ci vediamo nel prossimo video, spero che questo video, vi sia piaciuto, scrivete pure sotto, nei commenti, quello che volete, se mi insulterete, ovviamente il video, che il commento verrà cancellato, ma non per qualcosa, ma perché mi da fastidio vederlo, poi se volete, vi dedicherò un video, torino in poi, dedicherò i video, anche gli haters, perché fate parte ovviamente, del mio grande mondo, del mio canale, quindi, farò anche per voi, di video, ovviamente, dici di io, cosa fare del mio canale, quindi se qualche video, qualche commento, mi da fastidio, qualche cosa da fastidio, sono libera di toglierlo, ciao, buona! Buona! Grazie.